Il mio camion è la fonte di sostentamento. Ah beh, è come una casa. La seconda casa, diciamo. È una risorsa. È tutto. Il camion è una cosa fondamentale per me. Non rinuncerei mai all'emozione che mi dà. Oggi è cambiato malico. E alla comodità che offre la Renault. Il primo viaggio che l'ho fatto, Labaro, Olanda. Forse l'Irlanda, il più lungo, Olanda. Il viaggio più lungo è Roma-Palermo. Mia moglie e mia figlia. Mia moglie, mia figlia. Una bella donna. O belene. Quando vai via in camion, quello che ti manca sono gli affetti. Non porterei mia moglie, assolutamente. Mia moglie, non porterei mai in viaggio con me mia moglie. Perché non porterei mai in viaggio con me, forse è proprio mia moglie. Chi non vorrei? I miei principali. Faceit. Anche.